Il PMX partecipa a questa importante giornata per Fratelli Basile perché Fratelli Basile fin da due anni ha condiviso la nostra mission, fa parte della nostra rete, serve i nostri iscritti e perché questa giornata è una giornata che vede coinvolte molte aziende di PMX, sia dal punto di vista dell'organizzazione dell'evento stesso, il catering, la location, quindi siamo veramente in famiglia. A proposito di location, ha avuto già modo di visitarla, di apprezzarla? Assolutamente sì, ho visto sia in fase di allestimento sia oggi come veramente è diventata bella questa realtà, uno pensa a una carrozzeria e pensa a un'autofficina in maniera, scusate il termine, sporca, mentre invece questa è assolutamente una clinica, è un posto gioioso, allegro e pieno di luce. Alle sue spalle una scritta, l'economia locale sta cambiando direzione, allora le chiedo quanto è importante che gli imprenditori abbiano sempre la voglia di alzare l'asticella e di venire magari anche tramite un cambio di location a fornire servizi sempre migliori e più servizi ai clienti. È assolutamente importante che gli imprenditori proprio in questo momento di grande difficoltà dell'economia siano un po' visionari e abbiano voglia di guardare al futuro con fiducia come hanno fatto i fratelli Basile e abbiano voglia di guardare intorno a sé e fare rete con le altre imprese. Grazie.